Cultore e custode della storia locale, direttore ad honorem dell'archivio storico del comune di Avellino, luogo nel quale ha trascorso gran parte della sua esistenza. Si è spento, Andrea Massaro aveva 85 anni, numerosi volumi, gli articoli, le testimonianze e le interviste prodotte dopo meticolosi lavori di ricerca. A muoverlo la passione per la storia e il territorio della sua città, la curiosità e la volontà di tramandare conoscenza alle future generazioni. Per la comunità avellinese e non solo per essa, la scomparsa è una perdita che lascia un vuoto profondo. Anche Macerata Campania, suo comune di nascita, ne aveva celebrato l'impegno nel campo culturale, riconoscendogli con gratitudine la cittadinanza onoraria. L'impegno al servizio di istituzioni e della comunità non lo ha mai abbandonato, anche dopo la pensione. Fino all'ultimo è stato impegnato in studi e ricerche, nonostante le fatiche del tempo che scorre. Significativo il contributo dato da Massaro alla nascita della manifestazione del Palio della Botte e dunque alla rinascita del Centro Storico del Capoluogo. Ha narrato pagine e pagine di storia di Avellino e dei suoi figli, più o meno illustri. Per il sindaco Festa, una delle anime più belle della città, città che da oggi è un po' più povera culturalmente. Domenica mattina alle 11 al Roseto, dove è stata istituita la Camera Ardente, si svolgeranno i funerali.